Allora Pestelli, è una protesta in tutta Italia e qui vi siete ritrovati a Firenze da tutta la Toscana. Sì, esatto. È una protesta che colpisce tutte le maggiori città italiane. Qui a Firenze siamo presenti noi di Assidea, che è l'unica associazione degli ambulanti che manifesta avviso aperto nelle piazze contro la direttiva Volkestein. È una direttiva che toglierà il lavoro a tantissime imprese nei prossimi anni. Siamo tutti per contestare la direttiva. La scorsa primavera siamo stati chiamati a un referendum per salvare 10.000 posti di lavoro per i pozzi petroliferi. Oggi qui con me ci sono 200.000 imprese in tutta Italia e questi sono 200.000 posti di lavoro. Abbiamo salvato 10.000 posti di lavoro, vediamo questi 200.000 che il governo ha intenzione di farli. Senta, quello che vi preoccupa in maniera particolare è anche l'obbligatorietà del bando, visto che fino ad ora questo non si verificava. Esatto. Siamo costretti a partecipare a dei bandi su delle concessioni che fino ad oggi venivano rinnovate automaticamente ogni 10 anni. Concessioni nostre e dobbiamo partecipare a dei bandi su delle imprese che noi abbiamo ora e stiamo lavorando tutt'ora.